Francesca Blasoni Lottare su ogni pallone fino all'ultimo Infatti siamo riusciti a fare tre gol negli ultimi minuti Nel secondo tempo sei entrata Hai anche sfiorato la rete Come valuti la tua prestazione? Se avessi segnato sarebbe andata di sicuro meglio Però molto buona Sono contenta e spero di riuscire a dimostrare Di poter giocare ancora un po' di più Perfetto Perfetto Perfetto